Musica ETG più today, buongiorno, ben ritrovati, è una mattina densa di approfondimenti quella che ci apprestiamo ad iniziare a partire dalla notizia che è in questo momento su tutte le home page dei siti di informazione decine di treni cancellati, circolazione destinata a restare bloccata per ore l'Italia divisa a metà e causa le stazioni di Milano, di Roma, di Firenze, di Bologna e di Venezia è l'effetto del deragliamento di un carro, di un treno merci nella stazione di Firenze e Castello intanto vediamo anche la home page dell'Ansa con le immagini che ha interrotto la circolazione ferroviaria intorno alle 2.30 tra Firenze e Bologna un incidente che non ha provocato feriti ma che sta causando a cascata una serie di ripercussioni di disagi per chi è in partenza con ritardi di ore, c'è addirittura qualche segnalazione che già parla di impossibilità di partire fino al pomeriggio per raggiungere Milano da Roma ma tra poco leggeremo di più insieme per cercare di capire quali sono gli aggiornamenti proprio degli ultimi istanti L'altro grande tema di questi giorni è il tema dei migranti, tensione nella maggioranza sul decreto Cutro alla fine di una giornata convulsa all'emendamento sulla stretta la protezione speciale per i rifugiati che era stato prima riformulato e poi accantonato e stato approvato al Senato dopo una nuova modifica del testo e poi ancora occhi puntati al cielo in Lombardia, quella di oggi è una giornata di maltempo con il ritorno di piogge abbondanti che certamente sono necessarie soprattutto nel nord Italia dopo questo lungo periodo di siccità che già faceva pensare ad un 2023 in vista poi della stagione estiva difficilissimo arriva il maltempo ma nel frattempo proprio in queste ore si parla anche di un dato che si riferisce allo scorso anno e ci dice che il 2022 è stato l'anno più secco in Europa da quando ci sono rilevazioni scientifiche dalla seconda metà dell'Ottocento al primo posto per estensione delle aree colpite dalla siccità al secondo posto per riduzione della portata dei fiumi lo rivela il rapporto annuale di Copernicus, il servizio europeo di osservazione della terra e quindi insomma un tema di cui ci siamo occupati più volte che sicuramente continueremo a seguire con attenzione poi c'è sicuramente attenzione rivolta anche al calcio, allo sport dopo la partita di ieri sera con il pareggio di ieri sera l'Inter vola in semifinale di Champions League e affronterà il Milan che aveva giocato il giorno prima, un Euroderby molto sentito ci sono anche le date delle due gare, quella di andata e di ritorno e ve le comunico subito, Milan-Inter si giocherà mercoledì 10 maggio Inter-Milan il ritorno martedì 16 maggio sempre alle ore 21 di tutto questo avremo modo di parlare questa mattina insieme subito però affronto anche un altro tema perché vogliamo coparci anche di scuola questa mattina partendo dai dati che sono stati diffusi in questi giorni da Repubblica dal Corriere della Sera si parla di professori in fuga, in pensione in 30.000 vedete questo titolo, in questo momento appunto stiamo leggendo il titolo del Corriere colpa di stipendi bassi e stress professori in fuga dalla scuola a guardare i numeri dei pensionamenti in arrivo a settembre il dubbio potrebbe sorgere a febbraio come riporta Repubblica sarebbero circa 30.000 gli insegnanti che hanno fatto domanda per lasciare la cattedra più 24% rispetto al 2022 tra chi lascia 9.000 domande sarebbero legate a quota 103 che anticipa l'uscita dal lavoro rispetto alla legge Fornero una propensione che preoccupa i sindacati per via del turnover poi da garantire tra le regioni con il maggior numero di pensionamenti in arrivo secondo i dati del Ministero troviamo anche la Lombardia con 3.000 domande poi segue la Campania con 2.860, la Sicilia, il Lazio e quant'altro questi dati certamente fanno riflettere soprattutto bisogna anche capire il perché che cosa sta dietro a questa decisione di anticipare se possibile il pensionamento e allora ne parliamo con un ospite che è collegato con noi via Skype ritrovo con piacere il dottor Angelo Valtorta, dirigente scolastico del liceo Volta di Como buongiorno, grazie per essere con noi allora abbiamo letto questi dati insieme che sono stati appunto diffusi negli ultimi giorni innanzitutto lei che idea si è fatto? ma guardi sicuramente il numero dei pensionamenti quest'anno ci parla di numeri considerevoli soprattutto rispetto all'anno scorso il fatto che la professione docente sia una professione usurante diciamo così da tutti i punti di vista non c'è alcun dubbio nel senso che il mestiere di docente è bellissimo però la relazione logora cioè la relazione soprattutto con gli adolescenti di oggi davvero comporta anche delle fatiche relazionali non indifferenti teniamo presente che anche quelli che vanno con quota 103 abbiamo detto 9.000 docenti vanno con quota 103 stiamo parlando comunque di persone, di professori, professoresse che hanno almeno 41 anni di servizio e almeno 62 di età io ho presente per esempio pochi casi nella mia scuola che vanno con quota 103 avranno comunque tra i 63 e i 64 anni e quasi 42 anni di servizio cioè quindi non stiamo parlando di pensionamenti anticipati o di una fuga dalla scuola diciamo così con pochi anni di servizio certo io vi dico che la scuola oggi è per una serie di ragioni perché la società è più complessa rispetto a qualche soltanto a qualche anno fa perché la pandemia ha lasciato dei segni e delle conseguenze profondi in tutti vi dico che le energie richieste per insegnare sono enormi e un conto è profondere queste energie per dire a 50 anni un conto è dopo i 60 per cui è una fatica che probabilmente molti docenti non riescono più a reggere e poi mettiamoci tutto scusi se la interrompo però stavo sottolineando come ben spiegava lei visto da fuori il lavoro del docente, del professore resta comunque un lavoro molto bello a contatto con i ragazzi e sempre in mezzo alle idee insomma con la responsabilità e il privilegio anche di far crescere gli studenti, i cittadini di domani bisogna sempre guardare anche il rovescio della medaglia come ben ci stava spiegando lei di quante fatiche però in realtà ci siano anche dietro a questo soprattutto come ha detto bene lei soprattutto il mondo oggi degli adolescenti ma anche dei ragazzi, dei bambini è un mondo molto più complesso rispetto a quello soltanto di un decennio fa perché la società oggi va a una velocità molto più elevata rispetto a prima e spesso le richieste che facciamo non tanto come scuola ma che la società fa a questi adolescenti sono richieste indirizzate a un'eccessiva competitività a dover mostrare sempre il lato migliore o tra virgolette produttivo invece la scuola non ha questa finalità la scuola ha tempi e ritmi di apprendimento che le sono propri l'apprendimento richiede tempo, richiede pazienza e quindi c'è da una parte una società che preme verso determinati valori e la scuola invece che cerca anche di preservare il periodo in cui le studentesse e gli studenti la frequentano di preservare tempi e ritmi che sono forse più rispettosi di una crescita individuale, collettiva, umana, psicologica e culturale E con questo lei peraltro tocca dei temi che avrei voluto affrontare proprio partendo sempre anche da altri articoli che abbiamo letto in questi giorni da quanto anche sta accadendo a Milano con l'occupazione del liceo Manzoni ma anche l'articolo che ho letto proprio questa mattina liceo Berset di Milano, gli studenti sotto stress non siamo i voti che prendiamo ci rendano persone pensanti una lettera aperta al Corriere in cui i liceali spiegano i motivi del disagio diffuso anche in altri istituti legato proprio a quello che stava dicendo lei che peraltro non è una realtà soltanto per i studenti del liceo secondo anche altre analisi che sono state effettuate già prima inizia un po' questa ansia tra gli studenti addirittura 7 ragazzi su 10 denunciano crisi di ansia, stress e altre patologie attribuite alla pressione scolastica Guardi, sì, io mi permetto di fare una riflessione forse che va un po' in una direzione diversa allora sicuramente ci può essere all'interno della scuola qualche docente che diciamo così magari anche per un eccesso di zelo è particolarmente rigido o magari anche poco comunicativo ci può essere, in ogni scuola ci può stare siamo persone, la scuola è fatta da persone i docenti sono persone quindi possono anche sbagliare però le assicuro, io ho, questo è il mio 41esimo anno di servizio ho fatto 30 anni, per più di 30 anni di insegnante e adesso è 10 anni che sono dirigente scolastico quindi di studenti ne ho visti, ne ho avuti sia come docente e ne ho visti passare come dirigente scolastico nella scuola l'astra grande maggioranza dei docenti lavora con grande dedizione e con grande impegno e devo dire anche con grandissimo rispetto nei confronti dei propri studenti e delle proprie studentesse poi se vogliamo toccare il discorso della valutazione questo apre un capitolo enorme se è giusto dare i voti, non darli se una scuola debba vantare numericamente piuttosto che attraverso i giudizi qui ci sono i pro e i contro e ognuno può dire la sua certamente la scuola è il luogo in cui si deve e si dovrebbe apprendere nella maniera più serena possibile cioè i ragazzi devono trovare un ambiente sereno e accogliente perché la serenità unita a una giusta accoglienza permette ai ragazzi e alle ragazze di esprimere al meglio le proprie potenzialità ed è questo che una scuola deve fare ed è questo che un corpo docente all'interno di una scuola è il motivo per cui deve lavorare poi ripeto ci sta anche l'insuccesso temporaneo scolastico ci sta l'insufficienza dove l'insufficienza in un compito in una verifica scrittorale indica però soltanto il fatto che la valutazione è relativa a quella prova a quell'argomento e accanto alla valutazione si dice ai ragazzi e alle ragazze qual è la strada per poter arrivare diciamo così a fare un compito una prova accettabile però attenzione l'ansia da stress e da voti non è soltanto e unicamente imputabile alla scuola e qui si riallaccia al discorso che facevo prima guardate che noi viviamo in una società che impone a questi ragazzi di vivere costantemente andando all'ora in qualsiasi momento della loro vita e in qualsiasi cosa facciano questo comporta il fatto che questi ragazzi spesso arrivino a scuola con delle attese da parte magari anche involontarie dei genitori della società stessa ma di loro stessi anche attese su loro stessi che non sono poi realistiche perché la scuola non può diciamo così rispondere alle attese di ogni singolo secondo i propri desideri e secondo il proprio diciamo così la propria volontà perché non è questo neanche il compito della scuola la scuola deve essere accogliente deve essere rispettosa dei tempi di crescita di ognuno ma è una scuola che fa quello che una scuola deve fare dopodiché voglio dire vogliamo cambiare la scuola benissimo facciamola però questo riguarda una questione molto più generale Dottor Valtorta volevo chiederle anche un'altra cosa tornando sempre anche al discorso dei docenti perché lei ha ben inquadrato il problema e la questione soprattutto se pensiamo a qualche anno fa anche la carriera di un professore era una carriera fatta di tanti anni di precariato una carriera che magari appunto vedeva come dire la valigia in mano qualche mese in una scuola qualche mese in un'altra sicuramente c'è da ripensare anche alle retribuzioni al compenso perché una delle questioni che sono state sollevate proprio dai sindacati cercando di giustificare o di spiegare anche questi dati che abbiamo letto in apertura era proprio che anche il tema delle retribuzioni che restano tra le più basse tra i big d'Europa rendono anche un po' come dire mortificano anche un po' un percorso che è stato appunto di studi prima perché non certo non ci si improvvisa professori o insegnanti di precariato magari in alcuni casi e poi anche di lavoro vero e proprio ecco questa è la riflessione che vorrei fare in chiusura con lei certo guardi sicuramente lei ha detto bene nel senso che purtroppo c'è un problema reale attuale e concreto che però affonda diciamo così le proprie radici in tempi lontani la carriera degli insegnanti è una carriera che non muta praticamente da 60 a 70 anni e questo è il motivo per cui un docente a fine carriera prende la metà in Italia di un suo collega che ne so francese piuttosto che tedesco piuttosto che norvegese e questo è un grave problema però qui occorrerebbe una politica di approccio diverso alla scuola cioè vogliamo pagare di più gli insegnanti magari anche a fronte di un rinnovamento di un contratto che preveda anche un mansionario leggermente diverso va bene però occorrono investimenti massicci cioè ancora una volta torniamo a Monte quanto vogliamo investire sulla scuola e quindi sul futuro dei nostri ragazzi che cosa dove vogliamo far arrivare la scuola e i nostri ragazzi nelle sfide che ci attendono enormi mondiali da qui a 5-10 anni allora se ci sediamo intorno a un tavolo e cerchiamo di arrivare cerchiamo di affrontare il problema da questo punto di vista ci accorgeremo poi che gli investimenti che devono essere fatti sulla scuola non possono essere investimenti sporadici ancorché voglio dire utili sul momento perché adesso non so c'è la figura è stata introdotta la figura del docente per l'anno prossimo del docente tutor del docente orientatore che va benissimo cioè è un investimento anche importante io apprezzo lo sforzo no del governo per questa cosa però non risolve il problema più generale il problema più generale è quanto a livello di PIL vogliamo investire sulla scuola quanto investono i nostri colleghi europei e allora lì andiamo a vedere che al di là di quelli che sono dei numeri magari anche abbastanza freddi anche abbastanza apparentemente insignificanti denotano però un'attenzione più profonda al mondo della scuola e quindi al futuro dei nostri giovani un'ultima cosa se mi permette sì abbiamo pochissimi secondi perché ho un collegamento ad aprire di là allora questi stress dei giovani di questi ragazzi che denunciano eccetera impongono una riflessione più generale sul modo di fare scuola allora sarebbe opportuno magari convocare gli stati generali della scuola e fare una riflessione profonda in questo senso chiaro e questo con questo e su questo ci ci lasciamo ma è un tema che sicuramente torneremo ad affrontare perché insomma un ripensamento un ragionamento e un'attenzione anche del ministero competente del governo è sicuramente opportuna grazie al dottor Valtorta grazie a lei preside del liceo Volta buona giornata grazie grazie a tutti e intanto torniamo anche ai nostri siti perché volevo darvi qualche aggiornamento sul treno deragliato prima però vado anche ad aprire la nostra finestra sulla Lombardia perché vedo Caterina Zita in collegamento da Milano Caterina buongiorno è stata uno di sé arrivare a Milano questa mattina è stato molto complesso e possiamo dire che la città è bloccata la pioggia adesso sta dando una breve pausa fino a pochi minuti fa stava diluviando quindi la città è veramente bloccata il traffico è molto pesante già dalle prime ore della mattina è stato detto che in questi giorni di fuori salone arrivare in città in macchina e anche in taxi è stato per molti visitatori curiosi complesso e poi sappiamo appunto che la pioggia in generale anche nella città di Milano crea non pochi disagi noi siamo appunto in zona Moscova perché il fuori salone con i suoi centinaia se non quasi qualcuno parla di migliaia di eventi anima la città in questi giorni quindi il salone del mobile che appunto è organizzato a Ro non è l'unico fulcro l'unico luogo dove appunto parlare vedere apprezzare il design e il settore dell'arredamento ma appunto anche i tanti quartieri di Milano a cui si è aperto il salone del mobile che ha portato appunto tanti eventi in giro per la città sulle pagine social è possibile votare l'evento migliore appunto sono veramente in tutti i quartieri in tutte le zone della città e l'idea per il 2024 che è già stata presentata anche durante l'apertura del salone del mobile è quella di portare il fuori salone anche nelle periferie perché appunto solitamente sappiamo che si concentra nelle zone più centrali in Duomo in Brera in Tortona però insomma l'idea è quella di ampliare ancora di più i confini del fuori salone per quanto riguarda appunto questo importante evento è l'apertura della cronaca di Milano oggi sul Corriere della Sera Milano brilla con i suoi mille eventi distretti presi d'assalto visitatori in coda per accedere agli allestimenti di realtà aumentata gli operatori un grandissimo successo con qualche disorientamento soprattutto per chi non conosce la città il fuori salone chiede alle istituzioni una maggiore progettualità il diffondersi dell'evento in sempre più quartieri fa emergere oltre al successo anche alcuni punti critici la richiesta principale è di rendere accessibili le rotte senza rischio di dispersione magari in coda sul taxi o agli ingressi insomma già una prima panoramica di ciò che vi abbiamo potuto confermare noi questa mattina arrivando a Milano noi cercheremo ovviamente anche di raccogliere un po' di opinioni dei cittadini sul fuori salone perché la città è già gremita c'è molto movimento quindi sicuramente qualcuno di loro è anche appunto per andare a sbirciare tra gli showroom e tra i negozi e le attività che si sono aperte a questo evento poi ovviamente commenteremo anche le notizie di oggi ma ti restituiamo la linea così ne dai tu conto anche attraverso soprattutto gli aggiornamenti online che sono anche un po' più ovviamente aggiornati rispetto scusate la ripetizione alla prima pagina del Corriere della Sera comunque che dà una panoramica dei grandi temi di oggi a voi allora torniamo a Milano tra poco intanto gli aggiornamenti per quanto riguarda la notizia in apertura del treno merci deragliato a Firenze circolazione interrotta ritardi e treni cancellati in tutta Italia abbiamo anche una telefonata con chi parliamo buongiorno buongiorno sono Emilia da Trezzano Emilia buongiorno ho seguito lei e il professore che parlavate di scuola e lì chiedevo da persona grande perché ho passato gli 80 da persona grande da quando andavo a scuola io arrivare ad oggi sia nell'insegnamento sia come è composta la scuola sia il pensiero del governo verso i maestri insegnanti e anche gli studenti c'è una schizofrenia in mezzo che porta a quelle conseguenze che parlavate non c'è la volontà di fare le cose vere sul serio perché lo scolaro che esce la mattina e va a scuola e va a scuola comprese anche gli istituti quelli a pagamento dovrebbe essere una cosa seria dovrebbero incominciare quando hanno individuato delle cose non buone prendere dei provvedimenti severi e fare poca pubblicità e le famiglie dovrebbero prendere per le mani i ragazzi fin da piccolini e insegnarle invece c'è tutto vla vrallà viviamo in un mondo truffaldino in un mondo che le devo dire io non mi ci ritrovo francamente quali sono secondo lei le strade da percorrere per cercare di risolvere da una parte i problemi dei ragazzi e dall'altra anche quelli dei docenti del mondo scuola in generale manca la serietà manca la serietà io vedo nel mio piccolo posto dove abito io ho fatto le 200 ore perché non potevo andare a scuola però mio marito poi siccome parlando con gli amici così sbagliavo i congiuntivi lui mi riprendeva davanti all'agenza mi ha litigato lui un giorno mi ha preso e mi ha portato a scuola e io ho fatto le 200 ore mi è piaciuto moltissimo e sono riuscita in quell'anno a parlare molto meglio a pensare molto meglio dunque se l'ho fatto io da 53 54 anni che avevo perché i ragazzi adesso non mettono da parte perché ci dovrebbe essere l'ora dell'insegnamento l'ora della scuola l'ora del divertimento in qual misura capito invece no tu al ragazzo nei condomini se tu gli parli ti rispondono male hanno tutto un loro pensiero tutto un loro mettono davanti troppe cose alla televisione ci vorrebbero le vostre trasmissioni molto più allargate invece sulla RAI dove noi paghiamo il canone e anche su Mediaset ci sono troppe cose scordanti dalla vita reale Emilia chiarissimo il suo ragionamento comunque io voglio sempre ringraziarvi perché siete delle ragazze intelligenti io vi seguo tantissimo mi spiace che non c'è più il mio amico che faceva quella trasmissione di sera pazienza comunque vi seguo la ringrazio Emilia anche per il suo intervento buona giornata intanto grazie per gli spunti che ci ha offerto anche oggi sul tema della scuola insomma visto anche dagli occhi di una persona che come ci spiegava insomma poco fa il telefono ha qualche anno e quindi qualcosa da dire da raccontare ce l'ha andiamo al treno merci deraiato a Firenze circolazione interrotta ritardi treni cancellati in tutta Italia cerchiamo di capire che cosa è accaduto e poi con l'altro articolo del Corriere in aggiornamento anche cerchiamo di capire a che punto siamo decine di treni cancellati circolazione destinata a rimanere bloccata per ore Italia divisa a metà a causa le stazioni di Milano Roma Firenze Bologna e Venezia e l'effetto del deraiamento del carro di un treno merci nelle stazioni di Firenze Castello che ha interrotto la circolazione ferroviaria intorno alle 2.30 tra Firenze e Bologna un incidente che vale la pena sottolinearlo non ha provocato nessun ferito dalle 12 è l'annuncio di rete ferroviaria italiana arrivato a metà mattinata si riprende sulla Bologna Firenze il carro deraiato è stato sollevato con una gru e rimosso dal binario quanto alla regolarità degli orari è presto per fare previsioni ma nel corso del pomeriggio si dovrebbe ricominciare gradualmente a partire secondo le tabelle orarie normali i ritardi sono oltre i 180 minuti una cifra che peraltro ha poco senso visto che come detto i convogli partiti dal sud e dal nord si sono fermati rispettivamente a Firenze e a Bologna sostanzialmente risultano soppressi il riavvio riprenderà in modo graduale dopo mezzogiorno i passeggeri sono stati fatti scendere fatti salire sui bus ma l'operazione è ancora in corso chi può si sta organizzando in auto e c'è una corsa a prenotare posti sui bus e in aereo proibitive certe tariffe last minute si sfiorano in mille euro va anche segnalato un consistente aumento di traffico sulla 1 nel tratto appenninico ancora non sono chiare invece le cause del deragliamento avvenuto peraltro alla vigilia di un lungo ponte per il quale sono previsti intensi flussi di viaggiatori caos nelle stazioni più importanti lo abbiamo detto a Roma Termini c'è una folla assiepata già dall'alba penalizzati i tanti che volevano raggiungere il salone del mobile di Milano lo abbiamo visto traffico anche in tutta l'area milanese e nell'Interland noi stessi per arrivare a Milano da Como abbiamo incontrato una lunga coda le stesse scene si vedono appunto a Milano centrale a Firenze Santa Maria Novella e a Bologna centinaia di passeggeri stanno sostando ai terminal e sulle banchine cercando informazioni da sud si arriva praticamente sino a Firenze e da nord fino a Bologna dalle informazioni che giungono da Trenitalia qui nelle due città ci si ferma questo perché il deragliamento ha interrotto la circolazione non solo sull'alta velocità ma anche sui treni regionali sempre da Firenze a Bologna per il momento dunque impossibile fare come dire delle concrete previsioni sul ripristino della linea al minimo è questione di ore tra poco ne parleremo ancora adesso ci fermiamo c'è una pausa pubblicitaria ci ritroviamo subito dopo siamo di nuovo insieme come sempre in diretta fino alle 11 e 30 dovrai poter tornare a Milano da Caterina Zita ecco ti esatto noi siamo con la signora Agnese buongiorno siamo qui ovviamente per rubarle un commento su questo fuori salone una giornata piovosa lei mi ha detto insomma che oggi si dedicherà al fuori salone dopo aver visto il salone del mobile che cosa ne pensa? penso che vale sempre la pena per chi lavora in questo settore perché ci sono idee nuove lei oggi cosa cerca in particolare innanzitutto lei di che cosa si occupa? io mi occupo di ristrutturazioni sono un architetto che vengo dal Molise ecco appunto perché sappiamo anche che è stato un lungo viaggio lei è arrivata come qui a Milano oggi è una giornata nera per i treni per chi viaggerà in treno ma lei è arrivata in aereo sono arrivata in aereo da Pescara quindi è più comodo esatto ecco lei si concentrerà sul settore cucine mi ha detto sì ora farò un giro sulle cucine e poi un po' d'arte se trovo qualcosa e invece gli eventi gli aperitivi le mostre gli incontri tutto quello che è anche appunto il fuori salone che è anche come si suol dire networking un modo per fare rete per conoscersi lei passerà anche attraverso diciamo questo genere di eventi ci ho provato però no salto salto questi eventi farò più familiari e allora le chiedo lei che è stata anche al salone lei che appunto si occupa del settore è un architetto che cosa ne pensa l'innovazione doveva essere appunto una delle parole chiave di quest'anno gli spazi sono stati rivisti il salone è su un unico piano tanti ovviamente anche i visitatori dall'estero lei si è resa conto un po' si è resa conto un po' di tutti questi fattori sì ci sono molte novità in particolare c'era Euroluce di conseguenza ho visto che nel settore ci sono delle novità rispetto al solito Euroluce che è tornata dopo 4 anni giusto quindi insomma è anche è stata riportata una vecchia fiamma del salone del mobile allora le chiedo soltanto che cosa l'attende adesso dopo aver visitato questa zona e questa parte di Milano e ciò che si trova qui che cosa farà la pioggia e continuerò il mio tour riesco a provare a vedere il più possibile e ripartirà oggi stesso domani domani la ringrazio molto quindi insomma Michela noi continueremo anche a raccogliere questo genere di voci continueremo a raccogliere le opinioni delle persone che oggi come noi sono in giro anche con un po' di pioggia e poi appunto vi restituiremo la linea e ve la richiederemo a tra poco intanto sempre su quanto è accaduto sulla circolazione ferroviaria dal corriere ci sono ovviamente gli ultimi aggiornamenti ci sono le parole del Ministro dei Trasporti Matteo Salvini che segue con la massima attenzione quanto è successo a Firenze ed è in costante contatto con i tecnici di RFI rete ferroviaria italiana in particolare è necessario garantire la riprotezione del servizio per tutti i passeggeri così una nota del Ministero e poi ancora si parla già di rimborsi il deragliamento di un carro di un treno merci tra Sesto Fiorentino e Firenze Castello ha portato all'interruzione della circolazione come abbiamo detto nell'interruzione sono coinvolti i servizi di alta velocità sulle linee Milano-Roma Venezia-Roma e sulle linee regionali Firenze-Prato-Viareggio nelle prossime ore si prevedono cancellazioni totali o parziali di corse dell'alta velocità e regionali molti passeggeri non riusciranno a partire o arrivare a destinazione avranno diritto al rimborso del biglietto e quindi bisognerà poi capire come procedere per poterlo ottenere abbiamo un'altra telefonata con chi parliamo? Buongiorno ascoltavo il professore prima sì volevo dirle per gli insegnanti che all'estero prendono di più perché fanno anche dieci ore di più settimanali ci parla per esperienza diretta anche fanno 30 ore settimanali di scuola i maestri i professori cosa pretendono fanno tre quindici giorni di ferie a Natale dieci giorni calcoli lo stipendio lo prendono 1500 euro per 20 giorni se fanno 40 ore ne prendono di più giusto? questa è un'altra riflessione che sicuramente anche molti altri hanno fatto ragazzi che prendono meno ci sono un sacco di maestri faccio un esempio la mia amica faceva la maestra e sua figlia cosa gli ha fatto fare la maestra gli ha detto ma sei così brutto perché gli hai fatto studiare ancora fare la maestra? data via un po' la comunicazione non ho sentito l'ultima frase questa sua amica ha fatto la maestra? allora la mia amica maestra l'altra mia amica maestra le sue due figlie le hanno fatto studiare di maestra ok gli ho fatto una domanda ma se vi lamentate per lo stipendio se vi lamentate di questo di quell'altro perché avete fatto studiare i vostri figli di fare la maestra? e la risposta qual è stata? perché siamo lavoriamo sotto lo stato abbiamo tre mesi di vacanza d'estate e lavoriamo o il mattino o il pomeriggio l'impegno non è la stessa cosa come andare a lavorare in un ufficio diciamo che non dovrebbero essere queste le motivazioni perché comunque si ha sempre a che fare con bambini adolescenti ragazzi insomma il lavoro di docente è un lavoro molto complicato e bisogna ovviamente prima guardare al benessere e alla formazione dei ragazzi grazie intanto per averci chiamato signora da dove ci chiama lei? dalla coscienza delle persone che purtroppo oggi non c'è più da dove ci chiama lei signora? da Milano grazie intanto per la sua telefonata buona giornata e insomma abbiamo visto che il tema scuola sta muovendo anche molte considerazioni diverse e molti punti di vista differenti è sicuramente un argomento complesso che va come abbiamo detto anche con il nostro ospite Skype prima guardato da diverse prospettive e punti di vista perché immagino insomma che i docenti i professori che magari in questo momento sono all'ascolto magari in realtà in questo momento no perché sono a scuola però magari qualcuno che oggi è in pensione che sicuramente può raccontarci anche la propria esperienza se vuole può sempre intervenire in diretta insomma anche un po' per ribilanciare quanto è stato detto finora torniamo al discorso dei treni e della circolazione ferroviaria in crisi oggi abbiamo detto abbiamo letto le parole del ministro Salvini ci sono anche anche altre ripercussioni che si stanno registrando perché si cerca per chi può di trovare delle alternative a questi lunghi ritardi e chi magari viaggia per lavoro o per altre necessità e ha bisogno insomma di muoversi sta cercando delle soluzioni alternative le alternative ai treni per raggiungere Roma dal nord e Milano dal sud sono ora bus aerei e le auto in condivisione ma anche in questi casi si stanno registrando difficoltà perché i siti di prenotazione sono stati presi d'assalto per quanto riguarda i bus la linea Flixbus che collega le principali città italiane ed europee al momento segnala pochissimi posti disponibili per chi parte da Milano Lampugnano con destinazione Roma-Tiburtina solo a partire da questa sera la corsa delle 19 costa 76 euro per chi fa il viaggio al contrario ovvero da Roma a Milano al momento i primi posti disponibili sul bus sono per la partenza delle 19 da Roma-Tiburtina per Milano-Sandonato e poi quella delle 19 per Milano-Lampugnano e poi fino a poche ore fa c'erano le alternative diciamo via aria da Milano a Roma offerte dalla compagnia Ita ma anche in questo caso si è registrata una corsa a prenotare i posti che aveva fatto schizzare peraltro i prezzi oltre i 500 euro a biglietto per poi esaurire ogni opzione diretta per chi ha necessità di spostarsi a tutti i costi una delle opzioni è usare lo scalo e qui le possibilità sono diverse e l'articolo appunto del Corriere fornisce anche alcune indicazioni con gli orari per chi appunto fosse interessato cambiamo anche argomento perché abbiamo detto che la giornata di oggi soprattutto al nord è caratterizzata dal maltempo insomma si parlava di piogge e di precipitazioni abbondanti in arrivo vediamo anche le immagini che ci arrivano da Milano dove peraltro mi richiede la linea Caterina Zita esatto quello che vedete alle nostre spalle è la stessa diciamo giornata grigia che vi abbiamo anticipato all'inizio del collegamento la pioggia sembra aver dato un po' di tregua siamo qui con la signora Anna buongiorno buongiorno lei arriva da Roma la Roma sì da Roma non è arrivata oggi ci ha confermato per fortuna no però oggi dovrei ripartire spero di riuscire a raggiungere Roma oggi e per adesso ancora ovviamente anche gli orari dei treni sono in costante aggiornamento perché le cancellazioni sono state tante per ovviamente quel diragliamento approfittate per fare un giro continuiamo a fare un giro sfidando la pioggia e il maltempo sì assolutamente sì a Milano ne vale sempre la pena e questa è la settimana del design dove non si può mancare tutte le novità e tutto quello che il mondo del design ci dovrà proporre nei prossimi anni la troviamo qui quindi ecco quindi è questo un evento ancora valido è sempre molto valido per gli operatori del settore per chi si interessa al design all'arredamento è questo veramente in Italia e anche in Europa magari nel mondo un momento di incontro importante assolutamente sì in Italia sì in Europa siamo comunque nel mondo siamo un'azienda leader in questo settore però non dimentichiamo che ci sono anche altre manifestazioni e fiere importanti in Europa come Mason Object piuttosto che a Lussemburgo insomma ce ne sono svariate ma il salone del mobile a Milano può dire la sua grazie a Dio allora le chiedo ha visto qualcosa di particolarmente interessante una novità che l'ha catturata in particolare è la incerca di un'idea in particolare no lavoro nel settore alla ricerca delle idee ci siamo sempre tutto l'anno allora ho notato che sicuramente tra i vari tessuti dei divani il bucle quest'anno è quella che va per la maggiore e allora diamo anche un consiglio perché no a chi magari sta rifacendo casa pensando a rinnovare qualche tappezzeria e qualche arredamento allora io nel dettaglio mi occupo di finiture di interni quindi tutto quello che sono pavimenti rivestimenti tutto quello che serve per la ristrutturazione prima che dell'arredo il consiglio più che sui prodotti è sempre quello di è la diretta è sempre quella di affidarsi alle persone giuste cioè la persona i professionisti sono quelli che vi potranno poi indirizzare bene a tutto quello è quello che i professionisti sono quelli che dovete scegliere con cura perché sono loro che li sapranno indirizzare infatti noi abbiamo visto abbiamo parlato anche appunto con un'altra visitatrice anche lei del settore quindi anche lei insomma qui in cerca di idee idee poi da trasferire ai clienti appunto per cui lavoreranno la ringrazio la lascio ovviamente alla sua passeggiata il suo giro sa già dove andrà ci dice già la meta qui è diretta allora pensavo di andare a fare un giro tutta Brera lì dove il tempo ce lo permetta vediamo un po' di riparo magari riesci a trovare anche là grazie mille e allora dopo aver raccolto ancora una voce da Milano Milano nonostante la pioggia comunque molto vivace proprio per il salone con tanti spostamenti e tanti arrivi che si sono registrati si registreranno in questi giorni sappiamo insomma che il salone del mobile muove come dire a livello economico diversi settori e anche quello appunto della ricezione degli alberghi di tutto quello che è accoglienza anche di tutti i visitatori che arrivano appunto come abbiamo sentito anche dalle nostre interviste da più parti di Italia e di Europa stavamo parlando anche di meteo vedendo anche le immagini che ci arrivano da Milano dicevamo è una giornata quella di oggi caratterizzata dal maltempo soprattutto in Lombardia nel nord Italia pioggia che era attesissima vortice sul centro Europa porta piogge temporali grandi ne neve su parte d'Italia ci spiega tra bimeteo con la situazione e le previsioni per le prossime ore l'articolo ci spiega anche quello che sta accadendo in vari punti d'Italia sulla Val Chiavenna e Lombardia che al momento si registrano le nevicate più significative dove i fiocchi cadono oltre i 1400 metri aggiornamenti anche per quanto riguarda la Liguria con forti temporali e per quanto riguarda anche le relative immagini che propone tre bimeteo qualche pioggia su est Piemonte temporali lo abbiamo detto in Liguria fenomeni organizzati si estendono in Lombardia orientale e la pianura veneta coinvolgendo la fascia prealpina e pedemontana ma spingendosi anche più a sud fino al litorale veneziano volevo andare a vedere le previsioni per le prossime ore eccole qui al nord piogge e rovesci localmente temporaleschi già appunto dalla mattinata su Triveneto Lombardia Liguria centrale a tratti anche sul Piemonte orientale in intensificazione tra il pomeriggio e la sera sulle aree centro-occidentali in genere fino alle Alpi piemontesi attesi fenomeni localmente violenti accompagnati da Grandine specialmente sulle aree a nord del Po più irregolari invece sul Piemonte sud-orientale ed Emilia Romagna con parziali schiarite in serata piogge in attenuazione all'estremo nord-est ma anche la giornata di domani non sarà insomma sarà ancora caratterizzata da qualche pioggia intanto vediamo anche la grafica che ben rende l'idea di quello che sta accadendo e dell'evoluzione nelle prossime ore insomma con i fiocchi bianchi la pioggia i temporali e invece insomma una zona del centro e del sud Italia più caratterizzata da sole e qualche nuvola ma a proposito di meteo vi dicevo anche in apertura che appunto la pioggia era senza dubbio attesa soprattutto nella nord Italia perché abbiamo più volte documentato anche le conseguenze della siccità già in questo periodo dell'anno con le riserve che scarseggiano arriviamo da un'estate certamente asciutta ma anche da un autunno e da un inverno che sono stati poco piovosi e intanto esce il rapporto annuale di Copernicus come dire uno studio un servizio europeo di osservazione dei dati e di quello che insomma ci possono anche dire e aiutare a ricostruire negli ultimi anni si parla del 2022 come l'anno più secco della storia in Europa cercheremo di capirne di più tra pochissimo torniamo a Milano ancora una voce qui da Milano siamo con il signor Stefano buongiorno lei è appena arrivato a Milano esattamente appena arrivato da dove arriva? Treviso e qual è il suo obiettivo per oggi? visitiamo un po' la città tutte le nuove tendenze vediamo nel mondo del arredamento cosa sta succedendo vediamo i colori vediamo tutto quello che hanno proposto le nostre aziende ecco e in cerca di qualcosa in particolare lei di che cosa si occupa? mi occupo di grandi appalti alberghieri e di arredamento di interni facciamo ville in generale e alberghi e l'idea è quella di capire un po' quali sono le tendenze per i prossimi anni abbiamo avuto due anni un po' difficili per spostarci adesso anche con la pioggia siamo arrivati andrà anche al salone del mobile? andrò al salone del mobile sicuramente ed è la sua prima volta o è un po' un abitue? no, un abitue ecco allora le chiedo dato che appunto stiamo parlando con tanti operatori anche del settore chi lavora nel settore non soltanto curiosi per il fuorisalone quindi ecco è questo un luogo dove appunto si trovano idee si viene per capire le tendenze è valido da quel punto di vista? è un momento di incontro di ritrovo con le persone di ritrovo con gli operatori è fondamentale dal mio punto di vista proprio per intanto rilacciare i rapporti che sono mancati durante il covid e quindi è un buon ritorno e si vedono le tendenze si vedono quello che le aziende di investimenti che hanno fatto negli ultimi anni e qual è poi il futuro e allora le faccio un'ultimissima domanda secondo lei dal punto di vista economico come sta andando il settore è in ripresa il lavoro è stato ritorno alla normalità? sì ritorno alla normalità secondo me è un buon ritorno alla normalità sia dal punto di vista delle materie prime che ha venuto i prezzi erano schizzati sia dal punto di vista proprio c'era anche una carenza di materie assolutamente sicuramente siamo proprio in ritorno nella normalità e c'è un grandissimo poi interesse dal punto di vista sia dell'hospitality per quello che riguarda il mondo proprio dell'albergo e anche del mondo casa la gente ha capito e sta investendo secondo me proprio nel mondo casa quindi è un buon momento e questa ovviamente è una città dove parlare di casa di investimenti immobiliari è ovviamente sempre all'ordine del giorno perché questa è una questione che non lascia mai neanche le pagine dei giornali la ringrazio la lascio alla sua visita grazie a voi ma con i dati che appunto vi avevo annunciato poco fa il 2022 scrive e leggiamo da ANSA è stato l'anno più secco in Europa da quando ci sono rilevazioni scientifiche seconda metà dell'ottocento al primo posto per estensione delle aree colpite dalla siccità al secondo posto per riduzione della portata dei fiumi il 63% dei fiumi europei l'anno scorso è stato al di sotto della media del 91-2020 ed è stato il sesto anno consecutivo di portate sotto la media per i corsi d'acqua del continente lo rivela il rapporto annuale di Copernicus il servizio dell'Unione Europea di osservazione della terra European State of the Climate 2022 nell'inverno 2021-2022 gran parte dell'Europa ha avuto meno giorni di neve della media in molte regioni per meno di 30 giorni in primavera le precipitazioni sono state sotto la media in molte zone con il mese di maggio meno piovoso della storia la mancanza di neve invernale e l'estate calda hanno portato ad una perdita record di ghiaccio dai ghiacciai delle Alpi più di 5 km quadrati la scarsità di piogge è continuata nell'estate con ondate di calore eccezionali che hanno portato a siccità estesa e prolungata secondo Copernicus il sud dell'Europa ha avuto il numero più alto mai registrato di giorni con stress termico molto forte e il trend in tutta Europa è in crescita unico aspetto positivo nel 2022 la quantità di radiazione solare ricevuta dal continente è stata la più elevata in 40 anni con un trend in crescita nello stesso periodo le temperature medie in Europa negli ultimi 5 anni dal 2018 al 2022 sono state di 2,2 gradi celsius sopra i livelli pre-industriali 1850 a 1900 il rapporto diffuso ribadisce i dati sul clima europeo già anticipati da Copernicus a gennaio l'anno scorso è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Europa da quando ci sono le rilevazioni scientifiche ancora qualche aggiornamento che volevo fare con voi che ci porta innanzitutto a parlare di viabilità perché non abbiamo ancora aperto la nostra consueta pagina dedicata al traffico e alla viabilità in collaborazione con ANAS leggiamo insieme gli aggiornamenti in questo momento sono due riguardano la strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga viene segnalato traffico rallentato causa neve dopo l'incrocio Campodolcino e all'incrocio passo dello Spluga a confine con la Svizzera abbiamo detto appunto la causa è la neve lo abbiamo letto anche poco fa nell'articolo di Trebimetio e poi sempre sulla stessa statale viene segnalato anche traffico rallentato a causa di un veicolo in avaria all'incrocio Bellano in direzione dell'incrocio passo dello Spluga confine con la Svizzera per rimanere aggiornati è sempre possibile consultare il sito internet strade anas.it oppure chiamare il numero verde gratuito 800 841 148 prima di chiudere anche un aggiornamento per quanto riguarda lo sport in realtà come dire più che un aggiornamento un approfondimento perché sappiamo bene com'è finita la partita ieri sera tra Inter e Benfica un pareggio che porta i nerazzurri in semifinale e li porterà ad affrontare il Milan leggiamo dalla gazzetta insieme Lautaro e Barella anime dell'Inter così hanno fatto esplodere San Siro l'argentino e l'azzurro protagonisti contro il Benfica e contro il Milan sarà una partita speciale sappiamo bene che cosa significa sono stati i due leader dell'Inter che ha centrato la semifinale di Champions e ora sfiderà il diavolo Nicolò Barella e Lautaro Martinez hanno segnato le prime due reti del match ma soprattutto hanno scacciato la paura che per qualche minuto ha leggiato su San Siro specialmente prima del 2-1 del Toro quando il Benfica pressava e giocava nella metacampo nerazzurra andiamo ancora a leggere qualche riga insieme l'argentino ha interrotto un digiuno che per lui durava dal 5 marzo ovvero dal match casalingo contro il Lecce era tornato scarico e a corto di allenamenti dagli impegni di marzo con la Selecione ha assaggiato anche la panchina dopo un inizio di 2023 in cui aveva firmato nove reti ma adesso è di nuovo l'eroe del tifo interista il suo secondo gol stagionale in Champions il numero 18 in stagione la Coppa dalle grandi orecchie non è ancora il giardino di casa del ragazzo di Baia Blanca e le statistiche lo confermano ma dopo la gioia della serata di ieri avrà più fiducia e convinzione per affrontare l'euro derby e poi ci sono le parole dell'attaccante e quindi poi tutte le riflessioni anche in vista di questo derby più rovente che mai visto insomma la posta in palio e ancora prima di chiudere volevo darvi anche un ulteriore aggiornamento sempre sul treno deragliato vediamo se il Corriere ci dà qualche elemento in più sì rispetto a quanto accaduto nell'incidente potrebbe essere stato la rottura di un asse di un carro a provocare il deragliamento del treno merce sulla linea ferroviaria tra Firenze e Prato è una delle prime ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori secondo quanto si apprende questo avrebbe portato alla successiva inclinazione del convoglio che prima di fermarsi ha causato danni ai sistemi elettrici abbattendo alcuni tralicci della linea intanto sempre i disagi ovviamente sono protagonisti di questa giornata treni cancellati file interminabili questa è la situazione alla stazione Termini di Roma poco dopo le 11 questo è l'aggiornamento dopo appunto il deragliamento di un carro merci a Firenze e insomma poter partire oggi per i pendolari per i turisti per chi viaggia per lavoro è davvero complicato e qui arriva anche un messaggio una battuta insomma c'è anche chi con un po' di ironia parla di quanto sta accadendo e ci scrive un telespettatore Valerio da Cernobbio Como Roma alternativa mongolfiera che parte dallo stadio Sinigaglia ogni 30 minuti torniamo rapidamente a Milano per chiudere il collegamento Caterina a te esatto sì in chiusura dal traffico ferroviario a quello come potete vedere cittadino sembra che i milanesi prendano con un po' meno di ironia in questa situazione perché come forse potete anche sentire chi suona il clacson e chi lo fa appunto a ripetizione sono in tanti noi però vi abbiamo fatto anche vedere quanto movimento effettivamente si vede questa mattina a Milano anche per gli eventi del fuorisalone abbiamo parlato con alcuni degli operatori del settore che appunto si occupa di arredamento e design e che ha detto appunto è questo un appuntamento a cui appunto si rinuncia difficilmente allora noi da Milano vi restituiamo la linea appunto con queste immagini di una città sicuramente affollata come era stato previsto ma anche appunto bloccata dal traffico e allora da una Milano caotica e piovosa chiudiamo la nostra mattina insieme non mi resta che ricordarvi l'appuntamento con l'informazione alle 12.30 con la prima edizione del nostro telegiornale mentre ATG più today torna come sempre domani mattina alle 10.30 buona giornata a Grazie a tutti.